non voglio stare a dieta non voglio fare estenuanti esercizi per dimagrire non voglio saltare i pasti ma voglio dimagrire ah mi stai leggendo nel pensiero sì ho comprato la sfera di cristallo su amazon scherzavo sono le richieste sul dimagrimento che le persone mi fanno più spesso e oggi vi svelo tre trucchi bruciagrassi per dimagrire mangiando senza rinunce più un segreto bonus che trovate alla fine del video se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco cosa mangiare 1 legumi i legumi sono un'ottima fonte di proteine ma non solo contengono anche fibre e minerali che sono sazianti e nutrono la massa magra i migliori sono lenticchie e ceci per non gonfiare la pancia basta cuocerli con un pezzetto di alga kombu o un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua di cottura due verdure a foglia verde insalata cavoli broccoli spinaci coste la lista è lunga è anche la lista dei benefici e dei nutrienti vitamine minerali come il ferro antiossidanti clorofilla queste verdure sono un vero concentrato di benessere aiutano anche la salute intestinale fondamentale per dimagrire il contenuto di fibre aiuta a ridurre l'assorbimento degli zuccheri e aumenta il senso di sazietà prima di vedere il terzo segreto fate come gli amici trendy e sani che sostengono il canale iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi l'abbonamento non è come l'iscrizione è un modo di sostenere il mio canale con un piccolo contributo mensile e in cambio avete accesso a contenuti speciali riservati agli abbonati info in descrizione con anche il link al mio sito ai miei libri e ai miei ebook 3 frutta secca altro che brucia grassi tu mi vai come una botte che la frutta secca faccia ingrassare un falso mito c'è uno studio scientifico americano uscito su the journal of nutrition che lo dimostra e secondo un altro studio uscito su the journal of the american college of nutrition la frutta secca fa proprio dimagrire vi lascio il link in descrizione io mangio sempre la frutta secca la adoro e questo è il mio segreto salvalinea la frutta secca va mangiata come spuntino spezza fame tra i pasti oppure in piccole quantità a fine pasto al posto del dolce fa ingrassare quando la mangiamo a natale dopo un pasto di 5 portate il dolce il caffè la mazza caffè il liquore tutto contiene acidi grassi che servono al corpo a bruciare grassi e poi vitamine minerali e anche proteine con questi tre segreti brucia grassi dimagrire mangiando sarà più facile e durerà anche di più e ora il mio segreto bonus per dimagrire quei chiletti ostinati che non vanno via e avere risultati che durano nel tempo serve un approccio personalizzato questo è il segreto del mio lavoro come naturopata specializzata in alimentazione sana se volete un coaching personalizzato vi lascio il link per contattarmi in descrizione se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao attivate la campanella delle bonifiche attivate la campanella delle tonifiche iscrivetevi ciao 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 ciao